solida struttura per una grande precisione di stiratura nel tempo la migliore qualità di finitura dei fessini grazie alle pinze tendimaniche rotanti la migliore qualità di finitura della cucitura del carré grazie al dispositivo pressa spalle risparmio energetico del 25% grazie al recupero dell'aria calda ingombro minimo altezza regolabile e grande produttività semplice da utilizzare anche da un operatore non specializzato Pony la migliore soluzione per lo stiro professionale